Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ho il fiatone perché sono già morto, sono appena partito da circa cinque minuti dal parcheggio di San Romolo. Ho fatto una salita ripidissima, super tecnica per arrivare a questo asfalto, anche se era meglio fare la strada normale. Detto questo, benvenuti in un nuovo video. Questo weekend sono a San Romolo ad allenarmi. Ci sarà un bel po' di compagnia insieme a me. Inizio oggi con un giretto di enduro. Mi sono dimenticato la GoPro quindi vedrete ben poco, però restate sintonizzati, anzi iscrivetevi al canale e guardatevi il video. Eccomi arrivato in cima. Adesso c'è da scegliere tra scolli grossi e cinque stelle. Cinque grassi, cinque stelle. Ambra, rapa, cici, cock, cici, cock. Musica 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 Siamo tutti un po' fuori agio, siamo tutti un po' fuori agio questa mattina a scogli rossi presentati, chi sei? Freda, chi sei il mio, ricordiamo che domani fa 19 anni e perderà tutti i capelli va bene, ti rasiamo come tu, ciao, 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 ciao attenzione, scogli rossi dopo un anno e mezzo che non ci vengo ora arriva la parte seria e ora è la parte ancora più seria ok 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 attenzione è arrivato loris ravelli con già dei problemi alla sua bici si è mostresciato tipo te su strada attenzione Occhio, occhio! Cosa cosa? Vedi un po' interno Questa curva? Questa curva questo weekend è... L'Ano! C'è un ripietro così in mezzo? Non è meglio L'Ano! L'Ano! oh 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.